L'Avellino si avvicina a lunghe falcate a Dimitros Sunas, il calciatore gradisce il trasferimento alla corte di Michele Pazienza e con il suo entourage l'intesa è stata trovata. Data l'importanza del centrocampista c'è da limare qualche aspetto contrattuale, per assicurarsi le sue prestazioni l'Avellino avrebbe messo sul tavolo una proposta importante e anche di lunga durata. Sunas conosce molto bene il sud per aver giocato oltre che a Catanzaro, attuale società di appartenenza anche con Regine e Monopoli, vincendo in totale tre campionati di Lega Pro, di cui uno a Perugia, cresciuto nell'Ares Sallonico, può ricoprire più ruoli in mediana. L'affare Galo Capomaggio resta complicato, il giocatore del Cerignola è importante per i pugliesi che intendono monetizzare, ma l'Avellino non si fa prendere per la gola e non parteciperà ad alcuna asta, come detto ad inizio mercato. I lupi hanno avuto contatti con il DS Elio di Toro e con l'agente Daniele Piraino, ma non hanno mai affondato il colpo con il presidente Nicola Grieco. Una delle alternative è Rodrigo De Ciancio, anche in questo caso il Picerno non vuole mollare il calciatore, se non attraverso un corrispettivo economico anche per le casse della società. Per i netti con due strano continuano a dragare il mercato, per altri profili. Per la corsia di sinistra non si perde di vista Filippo Costa del Vicenza, a cui come abbiamo già ribatito nei giorni scorsi è stato offerto un lauto triennale. Nel frattempo Alessio Tribuzzi, arrivato dal Crotone, oggi svolgerà le visite mediche, per lui un ritorno all'ombra del Partegno dopo la splendida cavalcata dalla D alla C.